leo e lo spazzaneve guardate questa è la casa di leo il camion leo vieni fuori quanta neve qui davanti se leo attraversa questa porta può salire in ascensore dal secondo piano si può scendere dallo scivolo tutte le strade sono coperte di neve è tempo di costruire uno spazzaneve e scarica i pezzi leo abbiamo tutto quello che ci serve un grande telaio le ruote il motore il cruscotto adesso la piastra ecco la turbina per raccogliere la neve dalla strada ed ecco lo scarico per sparare la neve sul ciglio della strada o sul cassone di leo è quasi tutto pronto ma ehi manca una ruota oh leo andiamo a cercare la ruota ehm 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 non è sotto la vete oh non è neanche qui guardate è quasi coperta dalla neve è quasi coperta dalla neve oh non è una ruota oh nemmeno questa è questa ma certo ma certo metti la ruota nel cassone leo e adesso posizionala evviva lo spazzaneve è pronto vediamo come funziona vediamo come funziona spettacolare funziona molto bene e la neve non va sul ciglio della strada ma nel cassone di leo e le strade così sono pulite ora leo può raggiungere la sua casa senza difficoltà ehi leo buon divertimento è bello quando c'è la neve a presto ciao ciao